Musica Ok, ciao a tutti ragazzi Benvenuti per questo nuovo gameplay di Amnesia The Dark Descent Qui col vostro Valena 93B Allora Dunque, l'ultima volta siamo riusciti a scamparcela Grazie all'aiuto di Stefano E dunque Prossimo, oh che bella Questa musichetta poi mi ricorda tanti momenti felici Vabbè Andiamo nella stanza degli ospiti Uh, stanza degli ospiti Penso che fosse la stanza di Daniel Perché Alexander l'aveva Posizionato qui, se non sbaglio Adesso vedremo Ah, magnotte Wow Il mio giornale è gold Ma cosa vuol dire con il mio giornale? Sedia? Dimmi Cosa può interessare alla gente del mio diario? Dove Dico tutti i miei segreti E il fatto che sono allergico ai gattini Perché sono tra poco colosi Qua nulla assolutamente Out in the box Poi Cosa abbiamo qui? Nulla 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 inutile Allora, prendiamo Uh, piede di porco Che non so perché lo chiamano palachino Vabbè E penso che possiamo leggere Abdulla, abdulla, abdulla Era Un nodo Herb Non lo farò, ma sono preoccupato per lui. Ovviamente non c'è nulla. Dovevo leggere la lettera. Uh, lauda... Qua beh. Ma secondo me sei suicidato sto cazzo di Herbert qua, con questo nome orribile? Ma... Ma... Scusa, ma non è Daniel il protagonista che ce ne stiamo fregando altamente? Continuiamo con questo Herbert qua, chi se ne è forte? Quindi Daniel si è trovato dei pezzi di... di spera... In camera. Quando teoricamente dovevo averli Herbert. Vabbè, qua non... C'è qualcosa che mi sfugge? Via, non me ne frega niente. Oh sì, adesso mi sento molto meglio. Perché ho colpito una magnotta. O almeno ci ho provato. Allora, 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 allora. Prendiamo il piede di porco adesso. Perché immagino che sia il suo turno di entrare in azione. Dai, dai! Oh sì! Come l'altro hai un futuro, Daniel. Per favore, lascia essere qui. Lascia essere qui. Quindi cerchiamo una chiave. E cerchiamo questa maledetta chiave. 1839. È finito! L'orba è assemblata. È finito! Mi sono assicurato da un maledetto. Spacendo e svegliendo, mi sono tornato alla ruota con una coppa di tà. Le pezzi di relic. Le pezzi di spazio, spaventate all'interno della tavola, come le ho lasciato. Ma, inoltre, mi sapevo come si fosse. Ah, beh, è giusto. Mettete mi piace per l'accento di Daniel. Mi sembra più che giusto. Mi sembra più che giusto. È una superficie immaculata, e una forma perfetta. Potrebbe essere moldata da una fabbrica. Questo è tutto. 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 È strano. Oh, oh, oh! Grazie a Dio, c'è lì. Credo sia un buon posto di scendere, allora. Sì, dovrei rompere il baratto. Oh, sì. Oh, sì. E adesso? Cosa m'attende? Con questa fantastica musichetta che ispira felicità, gioia. Posso usare anche il quadro, forse? No. Oh, porca troia! No, non mi ispira più tanta felicità questa musica. E... Oh mio Dio, eccolo. Sento i suoi passi, i suoi versi. Eh... Ok, sta... Riesco a vederlo anche dallo spiffero. Sta ancora... Tentando di... Spaccare tutto quanto. Ok, voglio uscire. 3... 2... 1... E via! Via! Via, scappa, scappa! Scappa, Daniel! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Aiuto! Sedia, sedia, sedia! Via, 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 via! Oh mio Dio! Come si muove malissimo! E' una macabra da... Oh! No, Daniel! No! Uh! 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 Oh mio Dio! Oh mio Dio! Com'è... Sei brutto, fratello! Oh mio Dio! Ah, anche i capelli se non sbaglio! E si muove in un... In modo assurdo! La chiamerò... La chiamerò... Danza macabra! Danza macabra! Che culo! Che... No, ancora! Uh! Uff! Vai via! Macabra danza! Oh, si battene, fratello! Via, bro! Via, via, via! Se ne va? Se ne va? Dimmi che se ne va? Se ne va? Se ne va? Ma... Ah! Ah! È stato un incontro avvicinato molto... Uh! Ah! La sedia maledetta che non mi aveva fatto fare... Un salto come si deve, ma... Lasciamo stare! Che forse è meglio! E credo che... Abbiamo finito qui! Cioè, non dovrebbe esserci più nulla! E... Vabbè! Qui non c'è nulla! Vabbè! Possiamo andarcene! Ah! Va bene, ragazzi! Dunque, il mio gameplay finisce qua per oggi! Noi ci vediamo per il prossimo! Ricordate di mettermi un mi piace nei preferiti se volete! Commentate perché mi aiuta veramente tanto! Quindi noi ci vediamo per il prossimo gameplay di Amnesia! Un ciao dal vostro Vale93BAR! Ciao!